Manca poco l'avvio del nuovo anno scolastico, ma la situazione scuole appenne non sembra voler migliorare. L'ITC Marconi, la cui sede chiusa dallo scorso 18 gennaio, dopo il crollo parziale del tetto a causa di neve e terremoto, non può garantire l'ospitalità per 450 studenti. La succursale di San Giovanni, inaugurata circa due anni fa, assicura la presenza di solo 150 alunni e la presa dell'istituto, Angela Pizzi, non può permettersi per un altro anno di organizzare l'orario scolastico in doppi turni. La dirigente scolastico afferma che i moduli scolastici provvisori finanziati dalla regione Abruzzo per 200.000 euro non saranno pronti per settembre. Stiamo valutando tutte le possibilità, continua la Pizzi, tra cui la sede dell'ex giudice di pace e i locali comunali sotto i portici. Situazione ancora più complicata per l'istituto comprensivo Mario Giardini. Infatti, anche per il prossimo anno scolastico, gli alunni saranno ospiti dell'apparatore. L'edificio scolastico, chiuso da ormai un anno per effetto di un'ordinanza di sgombro da parte del sindaco Semproni dopo gli eventi sismici dell'agosto 2016. La costruzione della nuova scuola in via della Naioli è un'ipotesi che la nuova amministrazione sembra non voglia percorrere. Infatti, l'aggiunta sembra aver chiesto l'annullamento del bando da tempo assegnato alla Corbo Group. A farne le spese sono gli alunni e i genitori e il comparto docente e amministrativo della Giardini. Nell'ultimo anno, proprio per la mancanza di una sede scolastico, l'istituto Giardini ha visto l'esito di alcuni alunni verso gli istituti dei paesi di Mitrofi.